buongiorno ragazzi oggi vi faccio vedere un nuovo pomodoro nuovo per semistrani gigante si chiama il gigante zac guardate questo è quello più bello sarà un chilo e mezzo io penso ovviamente per fare un pomodoro diciamo da record bisognerebbe lasciarne uno solo su ogni pianta io sono interessato relativamente a questo aspetto quindi li lascio andare come vedete qui quanti ne fa queste sono le piante sono quattro piante comodoro gigante zac mi ha mandato un produttore di sementi francesi non lo so direi che si aggiunge orgogliosamente alla lista di tanti pomodori giganti che ho pomodoro gigante ha dato il nome io martini pomodoro gigante siriano ora pomodoro gigante italiano pomodoro gigante ora zac sono proprio curiosi di vedere quanto peserà questo bestione ho preso il coltello che mi ha regalato per il mio cinquantesimo il caro amico elio e ora lo stacchiamo insieme così lo va subito a misura vediamo se riesca a non creare danni infatti l'ho creato perché si è staccato velo e non volevo staccare ecco eccolo qua guardate là che bella bestia pomodoro gigante zac questa querino semistrani carlo martini arrivederci